Ciao a tutti i malati di Milan, è un risveglio, vi sto dando un risveglio dopo questa notte passata insieme a vedere Manchester City-Milan, è stata una notte bellissima, si è visto un signor Milan, un Milan con buonissime idee, un Milan che batte il Manchester City 3-2 il risultato ragazzi adesso, a parte gli scherzi e tutto, abbiamo fatto una live, abbiamo visto la parte insieme, se volete vederla, il canale è viola, avete la replica, ci siamo divertiti, abbiamo visto la parte insieme e abbiamo gioito, abbiamo anche esagerato, esasperato la situazione e tutto quanto, il risultato ragazzi conta poco perché potevi anche pareggiarla e le mie parole sarebbero state le stesse, perché nell'amichevole ragazzi bisogna guardare più che altro quello che si riesce a fare, quello che conta sono le idee, il gioco che si esprime, non tanto il risultato, perché poi il risultato è viziato anche da chi gioca, da chi non gioca, il City non era sicuramente al completo, non lo eravamo neanche noi del tutto, ma si è visto veramente un bel Milan, il Milan con buonissime idee, un Milan totalmente diverso da quello contro il Rapid Vienna, il Rapid Vienna fisicamente era avanti, il City secondo me fisicamente non era questo grandioso City, c'è da dirlo, bisogna essere onesti, bisogna essere, bisogna avere onestà intellettuale, non bisogna esaltarsi ragazzi, però il nostro ritmo contando comunque, anche noi abbiamo iniziato da poco, non abbiamo chissà che preparazione, il nostro ritmo ragazzi è stato ottimo, ed è stato abbinato anche a una buona prestazione dei singoli a livello tecnico, pochi errori, tanta concentrazione e tanta voglia di far bene, peccato per i due gol subiti che nascono da una disattenzione di Terracciano, che tra l'altro forse c'è anche un falletto, ma vabbè, l'altro gol lo prendi, secondo me su un fallo di Loftius che stava correndo, strattonato, ma va bene, disattenzione difensiva Calabria che si fa saltare con troppa facilità, Tomori, che si fa a mio avviso in maniera abbastanza ridicola segnare un gol da uno alto 1,60 m, ma vabbè, difesa si può migliorare, lo sappiamo, però, arrivando poi a noi, arrivando alle cose invece positive che ce ne sono tantissime, non so neanche se riesco a linkarvene tutte, arriviamo noi ragazzi, bene il portiere, mi ha sorpreso tanto anche il nostro portiere che non conoscevo ragazzi, personalità, bravo coi piedi, difesori difesa bene, non impensieriti tantissimo, però hanno lavorato di reparto, hanno impostato bene, perché si è visto il Fonseca Ball che ha disintegrato il guardiolismo, questo giocare palla e cercare di uscire, no? Di uscire dal pressing, di evitare il pressing dell'avversario, e la tattica è quella, chiamarsi l'avversario e col siti puoi farlo benissimo, chiamarsi l'avversario a sé, chiamare la pressione e uscire col possesso, e l'abbiamo fatto molto bene, abbiamo fatto molto bene, non è semplice, non è una questione semplice, anche perché hai comunque il siti che ti pressa, non è l'ultima delle squadre, l'hai fatto molto bene, sono stati i bravi difensori, Terzini, insomma Terracciano ha alternato cose buone a cose meno buone, Calabria, stessa cosa, bene il centrocampo, Benasser ragazzi è una... io quando si parla di Ismaele si parla di cessione, bisognavi, cioè ragazzi Benasser, io, io, non so, la memoria è corta, il fatto dell'infortunio che magari, non lo so, sta offuscando un po' la mente, Benasser è giocatore totale, Benasser non si tocca, cioè Ismaele, Benasser ragazzi, se sta bene si recupera fisicamente, è giocatore che per me deve essere titolare, primo, il secondo se lo devi cedere, lo devi cedere a cifre folli, quindi se non si arriva a cifre folli, Benasser ce lo teniamo ben stretto che è un giocatore clamoroso, l'altro centrocampista è stato Florenzi, dispiace tanto, brutta, l'unica forse veramente nota negativa di questa partita è proprio l'infortunio di Florenzi che speriamo non sia così grave, ma insomma da quello che si è capito dalla reazione tutto sembra menisco, sembra crociato, comunque sembra una roba seria, entra Pobega, e ragazzi a me Pobega io non riesco a farmi un piacere, per carità ci mette grinta, ci mette voglia, ci mette quantità, il problema è che la quantità non viene accompagnata dal dinamismo, è proprio lento, è proprio macchinoso, è indietro, cioè indietro ragazzi, ci sta anche, magari anche dovuta anche alla preparazione, per carità, però Pobega a me non piace, cioè Pobega a me non piace, se Pobega riesce a piazzarlo, a venderlo e prendere un'altra seconda linea, è tanta roba perché secondo me aumenti ancora di più il buon centrocampo che hai, davanti benissimo, non bene, benissimo, si è visto un gran Loftus Cic e perché si è visto un gran Loftus Cic e sono contento che si siano viste queste cose che tra l'altro vi ho detto nel video dove vi ho parlato di come sarà il Milano di Fonseca e del fatto che ci saremo un trequartista, Loftus Cic in queste partite ragazzi è devastante, Loftus Cic in queste partite gioca titolare, non ce n'è, perché sono le sue partite, perché? Perché cosa fa il Milan? Il Milan chiama, ripeto, il City a sé e il City è una squadra che pressa alto, non ha paura di affrontare le squadre avversari in questa maniera, ripeto, sicuramente la condizione del City non ottimale, la squadra titolare ha agevolato il fatto che il Milan riuscisse ad uscire palla al piede molto, in maniera molto più semplice, però comunque molto bene è a trovare poi Loftus e Loftus con una squadra come il City che ti attacca alto ha campo, ha campo da attaccare, ha modo di fare il cavallo come piace a lui e raga quando parte Loftus Cic parla al piede è disarmante, non lo fermi, non lo fermi, devastante, molto bene anche tecnicamente, molto lucido, pochi errori tecnici, giuste le scelte, bene 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 Loftus Cic, sono molto contento. E arrivando alla questione del trequartista, queste sono le pareti di Loftus, però quando troveremo squadre dove Loftus sarà un po' più ingabbiato, dove saranno le squadre da attendere noi, quindi saremo noi a avere il pallino del gioco, saremo noi a dover aggredire, no? E in quel caso servirà un trequartista che ha più la giocata nello stretto, un Liberali ad esempio, che dopo vi parlo anche di Liberali, che è un giocatore, ragazzi, è splendido, io ripeto è il 2007, troppo giovane, è acerbo, quello che volete, ma raga, vabbè, ne parliamo dopo. Andiamo in ordine. Ciukweze, molto bene il Ciuku, mi è piaciuto tanto, ho fatto due assist, molto belli, tra l'altro bei due cross, benissimo Colombo, benissimo Colombo, che raga, io so che ha segnato poco dove è andato, non ha fatto benissimissimo da dire cazzo è pronto per il Milan, però Colombo io raga terza punta me lo tengo, io Colombo terza punta me lo tengo tutta la vita, poi ragazzi, arriva un'offerta importante per Colombo, ci sta a venderlo, ma io Colombo terza punta, ripeto, perché no? Dall'altra parte Salamakers, ragazzi, Salamella, giocatore che deve rimanere, punto, cioè non è che c'è altro da dire, Salamella ha, a meno che arrivano veramente offerte importate 20-25 milioni, Salamella dal Milan non si deve muovere, giocatore importantissimo, che secondo me con Fonseca può fare benissimo, può giocare a destra, può giocare a sinistra, dà quantità, dinamismo, tecnicamente è migliorato tantissimo, è migliorato soprattutto non tecnicamente, perché tecnicamente è sempre stato un buon giocatore, ma nelle scelte ha perso pochissimi palloni, si vede che ha proprio una visione diversa, cerca diversamente i compagni, bene, 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 veramente molto contento, mi è piaciuto tanto Salamakers, uno dei migliori, Salamella è uno dei migliori insieme a Colombo, insieme a Cucuese, insieme a Loftus, insomma, veramente bene. Arriviamo a chi è entrato e una nota speciale, Pulis, insomma, niente di che, l'unico che ragazzi mi ha, vabbè, Nasti, entrato, assegnato, ha fatto anche gioco sporco, per quanto io penso che Nasti, ragazzi, non ha giocatore a Mila, ma contento per lui, si è sicuramente tolto qualche sassolino, qualche soddisfazione, ma raga parliamo di Liberali. Che giocatore è Liberali? Che giocatore è Mattia Liberali, ragazzi? Cioè qua si parla di non lanciare i giovani, che non hanno talento, ragazzi, Liberali lo si vede da come tocca la palla, che è un giocatore diverso, eh? E non solo da come tocca la palla, ma dalla scelta che poi fa, cioè dalle scelte che fa, ragazzi, Liberali non sbaglia un passaggio, non sbaglia un'idea di passaggio, dribbla come se fosse veramente il suo pane quotidiano e dribbla il City, non è che dribbla. Raga, Liberali poi ha una frequenza di passo clamorosa, tocca la palla, ha un controllo di palla clamoroso e tocca la palla, ha una frequenza di tocco palla, che è vergognoso, è forte, questo ragazzo è forte, bisogna avere pazienza, bisogna stare tranquilli, bisogna stare staseno, bisogna mettere pressioni, raga, Liberali, ci metto quello che vedete sul fuoco, a meno che la crescita poi venga troncata da qualcosa, poi ragazzi, tra l'altro, minissimo, l'ho sentito, cioè, veramente un ragazzo splendido, Liberali, raga, ha tutto quello che può essere possibile per diventare un giocatore importante, veramente forte, forte, forte. Detto questo, ho fatto un po' un riassunto di tutti i giocatori di tutte le prestazioni, in linea generale vi ho già detto, ragazzi, si è visto un bel Milan, si è visto un Milan che sta corto, e questo, ragazzi, è già un'impresa, perché siamo abituati a un Milan molto più lungo, con molta più distanza tra le parti, quindi molto, molto bene, raga, veramente tanto, tanto contento di vedere un Milan corto, un Milan che è bravo, è bravo a leggere la situazione, perché ha aspettato il City quando doveva aspettarlo, e ha attaccato il City quando doveva attaccarlo, e queste cose non si vedevano, ragazzi, perché noi cercamo sempre di imporre il nostro gioco, non ci importava chi avessimo contro, no? Noi volevamo imporre sempre il nostro gioco, e non è così che si gioca a pallone, perché a seconda dell'avversario che hai, a seconda di come gioca l'avversario, devi specchiarti, e Milan l'ha fatto benissimo oggi, è uscito, come abbiamo detto, benissimo dal pressing che faceva il City, e ripeto, è un amichevole, è un amichevole prestagionale, dove l'intensità è quella che è, ma si sono viste veramente tante, tante cose buone, si sono viste belle idee di calcio, un bel possesso palla, tanto movimento, tanto movimento da parte dei giocatori, e si è visto un entusiasmo che io, ad esempio, nell'amichevoli dell'anno scorso, non vedevo. Quindi, gli amichevoli sono amichevoli, non ti portano sicuramente a poter fare un'analisi, un ragionamento chissà quanto accurato, ma io, l'anno scorso, avevo detto, non mi piace questo Milan, non mi piace come si gioca, abbiamo visto come abbiamo giocato l'anno scorso, quest'anno mi dico, cazzo, bene, mi sono divertito a vedere il Milan, abbiamo giocato bene, belle idee, bella intraprendenza, poi gli errori ci sono stati, per carità, è un amichevole, però, cazzo, contento, soddisfatto, soddisfatto, speriamo di continuare così, speriamo che non sia una prestazione, insomma, anomala, e che invece sia veramente le prestazioni che ci daranno sempre i ragazzi, speriamo che siamo sulla strada giusta, sono contento, sono contento di quello che ho visto, ditemi la vostra, ragazzi, nei commenti, non vi ho ricordato di iscrivervi al canale, di lasciare like al video, fatelo, ragazzi, fatelo, e nulla, ragazzi, ci vediamo alla prossima, forza Milan sempre, alla prossima amichevole, perché, sicuramente, magari vi faccio un video anche prima, dipendendo da quello che succede dal calciomercato, succederà qualcosa, però, curioso di vedere la prossima partita, perché, spero veramente di essere, che vengano confermate tutte le cose buone che abbiamo visto, forza Milan sempre, ragazzi, forza Milan! per la prossima partita,